Avvocato, facciamo un po' di chiarezza. Intanto lo chiedo che cos'è il Green Pass? Il Green Pass è uno strumento che l'Unione Europea ha individuato alcuni mesi fa come appunto strumento che permettesse ai cittadini degli Stati membri di transitare da uno Stato all'altro, dimostrando all'interno di un periodo di pandemia la propria condizione di benessere fisico e quindi il fatto di non avere un contagio in essere. Quindi non è un istituto prettamente italiano? No, assolutamente. Considerando il 36 del regolamento numero 953 del 2021, afferma che il Green Pass è uno strumento che riporta esclusivamente la condizione di sanità fisica del soggetto e prevede assolutamente il divieto per gli Stati membri di operare qualunque tipo di discriminazione nei confronti dei cittadini degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso ai servizi e ai diritti fondamentali. E allora perché è così tanto contestato? Abbiamo visto anche di recente diverse proteste. Questo inerisce alle modalità con cui alcuni Stati hanno deciso di applicare questa parte del regolamento dell'Unione Europea che ho citato, in particolare la Francia e soprattutto l'Italia. Il governo italiano ha ritenuto di utilizzare questo strumento non tanto e non solo per consentire il transito dei cittadini italiani verso altri paesi dell'Unione, ma come barriera di ingresso per poter accedere a servizi e diritti fondamentali della persona. Pensiamo ad esempio all'utilizzo del Green Pass non tanto e non solo per andare al ristorante o per sedersi al caffè del paese, quanto per accedere ai luoghi di lavoro e come dire a tanto altro. Ecco, facciamo un esempio, quello dello smart working. Sì, lo smart working o lavoro agile è una possibilità che i contratti nazionali di categoria consentono già da molto tempo ai lavoratori italiani di esercitare le proprie mansioni lavorative non sul posto di lavoro, cioè presso i locali predisposti dall'imprenditore, ma direttamente dal loro domicilio, ufficio o residenza. Chiaramente in questo caso non si comprende perché il lavoratore autorizzato a lavorare da casa debba precostituirsi un Green Pass nel momento in cui egli non esercita il diritto di accedere ai locali dell'imprenditore. In questo caso esiste una discrasia, oltre che una differenza di trattamento, tra i lavoratori che hanno ottenuto dall'azienda la possibilità di lavorare 5 giorni su 7 tutta la settimana da casa e sono autorizzati a non avere il Green Pass dai lavoratori che ad esempio hanno ottenuto il permesso di lavorare da casa solamente per tre giorni. Ecco, in questo caso la differenza è sostanziale perché debbono dotarsi o di un tampone a pagamento oppure di accedere alla vaccinazione nel caso in cui volessero esercitare i diritti di cui è l'articolo 32 della Costituzione. E sempre in questa versione italiana del lascia passare ci sarebbe una discriminazione anche per i lavoratori che lavorano in piccole o grandi aziende? Assolutamente. La normativa italiana, più recente e attualmente in vigore, tra l'altro in via di conversione in legge e il decreto che la prevede, prevede appunto una differenza tra lavoratori a seconda se lavorino presso una piccola impresa sotto i 15 dipendenti oppure se è una azienda più grande, cioè se ha più di 15 dipendenti. Nel primo caso, in entrambi i casi i lavoratori hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro, ma nel caso di piccole o di micro aziende, cioè in cui i lavoratori sono meno di 15 unità, il lavoratore può essere sostituito per tutto il periodo in cui l'altro non accede ai locali in quanto sprovvisto di green pass. Di conseguenza si crea la possibilità per l'imprenditore di formare un nuovo dipendente tale per cui nel momento in cui dovesse rientrare il dipendente originario egli si troverebbe un'altra figura che esercita le proprie mansioni e quindi di conseguenza il pericolo di essere espulso dall'unità produttiva. Questo rischio ad esempio non viene corso dai lavoratori delle aziende più grandi e questo, all'avviso di molti, individua una discrasia della normativa attuale rispetto alla normativa costituzionale. Dal punto di vista costituzionale, quindi, il green pass andrebbe ad incidere su diversi diritti e libertà fondamentali? Questo è il rischio paventato da una parte, diciamo, della dottrina, penso soprattutto al professor Alessandro Mangia, ordinario di diritto costituzionale, alla cattolica di Milano. Non tanto e non solo l'articolo 3,2 della Costituzione italiana che prevede non tanto e non solo il divieto di discriminazione, non tanto e non solo il diritto di accedere al posto di lavoro, quanto il fatto di non vedersi uno Stato ostacolare questo diritto e quindi lo Stato ha l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli perché il cittadino eserciti non solo il diritto al lavoro, ma il diritto di esercita, di esplicare la propria personalità attraverso l'attività lavorativa, che non è solo un modo per procacciare risorse, ma è un modo per realizzare se stessi all'interno della società nazionale. Ecco, non solo questo che è forse il profilo più immediato, ma penso ad esempio all'articolo 32 della Costituzione, che prevede certamente la necessità di tutelare il diritto alla salute individuale, prevede altresì di tutelare la sanità pubblica attraverso la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, come ad esempio il vaccino per i minorenni o comunque i vaccini cosiddetti classici, ma c'è una parte fondamentale che è il cosiddetto emendamento Moro, che vide nel 1947 una grande teatriba culturale dal solidarismo cattolico di Callamandrei e quello socialista di Leglio Basso, tale per cui non tanto e non solo il diritto a tutelare la salute del cittadino, ma attraverso i trattamenti sanitari obbligatori previsti però per legge, la possibilità di tutelare la sanità pubblica, ma non fino al punto da ledere i diritti fondamentali della persona umana previsti appunto dall'ultima parte dell'articolo 32. Passiamo avanti. Il titolo terzo della Costituzione è quello che tratta dei cosiddetti diritti economici. Ecco, non è possibile che la normativa europea venga interpretata in Italia in modo tale da prevedere delle barriere tra il cittadino e le proprie attività quotidiane subordinate ad interessi di sanità pubblica che appunto durino più di 18 mesi, ricordiamo il codice della protezione civile. Quindi in questo caso qualora siano oltrepassati i 18 mesi, certamente i profili di incostituzionalità previsti come dicevo dalla migliore dottrina entrano certamente in essere e da questo punto di vista mi chiedo il motivo per cui come mai di fronte a un argomento così importante e soprattutto di fronte a conseguenze così gravi nei conflitti della popolazione, penso ai morti degli ultimi 18 mesi, non vi sia stato alcun convegno congresso scientifico da parte di medici e luminari, non sia attualmente in essere alcun procedimento giudiziario che prevede ad esempio la configurabilità o meno di conseguenze degli avventi avversi e quindi alcuni interpreti del diritto iniziano a pensare che questo Green Pass non sia solamente un provvedimento giudizionale ma sia una verità precostituita che evidentemente cozza contro quella parte della Costituzione costituita dai primi 12 articoli per i quali la Corte Costituzionale ha previsto da anni l'assoluta intangibilità. E quindi che finalità potrebbe avere questo lascia passare? Beh, non noi ma il governo italiano in persona del Presidente del Consiglio e di importanti membri dell'attuale governo hanno dichiarato senza alcuna difficoltà che il Green Pass interpretato nella versione italiana è tale da essere concepito per stimolare e uso un eufemismo la popolazione a vaccinarsi. Chiaramente perché non è concepibile ad esempio un trattamento sanitario obbligatorio come la vaccinazione obbligatoria, penso l'antitetanica che tutti noi abbiamo fatto da bambini, perché la vaccinazione obbligatoria non può essere consentita nel momento in cui la decretazione d'urgenza consentita dall'articolo 77 della Costituzione, cioè il decreto legge e il decreto legislativo sulla base di legge delega, non è consentita perché non vi è quella certificazione tecnico-scientifica che viene dal sapere medico tale per cui vi sono ragionevoli certezze che non vi siano conseguenze avverse. Da questo punto di vista è interessante, senza arrivare a parlare di questioni mediche che probabilmente non ci competono, comunque questa non è la sede, è importante stabilire che la decretazione d'urgenza in Italia, che è il mezzo con cui l'Italia sta adottando misure restrittive della libertà personale come quella del Green Pass, appunto queste misure possono essere adottate esclusivamente se dietro vi siano inoppugnabili certezze medico-scientifiche. Allora perché si va avanti e addirittura si parla di una possibile proroga del Green Pass e non c'è nessuno che faccia qualcosa? Questo è un altro aspetto molto interessante, non è possibile intervenire all'interno dell'ordinamento italiano con ricorsi alla magistratura, in quanto la magistratura è assolutamente granitica nell'accogliere le istanze governative. Quindi noi abbiamo magistratura contabile, magistratura militare e magistratura ordinarie, che sono le tre magistrature ammesse in Italia, che sono granitiche nel considerare lecito tutto quello che la normativa del Green Pass prevede. La via della Corte europea dei diritti dell'uomo è sbarrata, e anche nei confronti della Corte del Lussemburgo, è sbarrata nel momento in cui la Corte del Lussemburgo afferma che i principi contenuti nel regolamento 953 del 2021 sono corretti, quindi il divieto di discriminazione, ma l'applicazione è riservata allo Stato membro tale per cui come viene applicato il regolamento non è affar suo. Quindi noi abbiamo sostanzialmente una indifferenza della Corte del Lussemburgo nei confronti delle istanze di costituzionalità del cittadino italiano e un momentaneo orientamento della magistratura ordinaria e speciale italiana tale da non consentire un dibattito da questo punto di vista, tant'è che come dicevo non abbiamo in essere alcun tipo di convegno scientifico, medico o giuridico sul tema.